In Canada. Ora Anna ha ricevuto una buona offerta. Non potevamo rifiutare. Quando pensate di partire? L'avete già deciso? Credo tra una ventina di giorni. Così festeggeremo l'anno nuovo nella nostra nuova patria adottiva. Vogliamo ricominciare completamente da zero. È dura. No. Non se hai la consapevolezza che dietro di te non lasci quasi niente. Abbiamo speso tutto in medici e cure inutili. Ho persino dovuto vendere la casa. Se per i soldi posso darti una mano. Quello che proprio non mi va giù. e che i medici siano convinti che la causa la causa di tutto sia stato quell'aborto. Io non ci credo. Sai, è solo un'ipotesi, ma sentir loro sì, quell'aborto è la causa più ovvia. Ero già di tre mesi, ti ricordi? mi ricordi. Però stavamo per divorziare e io non me la sono sentita. Mahmoud, io non ce l'ho con te. Sul serio, è acqua passata. io dico che in Canada dovresti sentire un altro parere. Non è possibile diventare sterili per un'interruzione di gravidanza. non ci credevamo neanche noi, ma alla decima visita ci siamo convinti. da allora io mi sono messa il cuore in pace. È Oran che non si rassegna. Lui i bambini li adora. Gli ho anche proposto di separarci. Ma lui è ostinato. Gli ho anche vero. Grazie a tutti.